Buonasera, eccoci qui per gli appuntamenti che stanno riprendendo come assessorato alla cultura in relazione alla giornata della memoria. La situazione sempre più complessa in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e che sta facendo vivere purtroppo anche la nostra comunità giorni di grande dolore, ci costringe ancora una volta a proseguire l'organizzazione degli eventi con la formula distanza tramite i social, una modalità che comunque ci consente di poter continuare con tutti i linti che questo comporta, quel rapporto con voi che altrimenti sarebbe stato interrotto. Invece siamo qui ad assicurare che la pandemia non fermerà quanto è stato fatto fino ad oggi, anche in un'occasione come quella della giornata della memoria, che ha visto l'assessorato alla cultura del Comune di Magione e a riguardo porto i saluti dell'assessore Vanni Ruggeri, proporre ogni anno un ricco calendario di eventi, che quest'anno è sotto il titolo di negazionismo e olocausto, paradigmi, paradossi e pratiche della memoria. Per cui anche se non potremo vederci di persona, da oggi fino al 31 gennaio saremo su questo social con un parincesto di appuntamenti e quel calendario è completo e consultabile su questa pagina. Un itinerario di memoria con il contributo di studiosi, giornalisti, scrittori e docenti che si muove tra letteratura e cinema, approfondimento storico e riflessione sul presente, impegno di ricerca e partecipe testimonianza. Incontri che non vogliono essere a senso unico, per cui tramite la live chat saremmo veramente felici se voi poteste intervenire al dibattito con domande relative agli argomenti che verranno trattati nei singoli incontri. di commemorazioni istituzionali, come sono il 27 gennaio, che è l'istituzione della giornata della memoria e del calendario civile, corrono il rischio di indurre a credere che l'argomento, la questione, il problema si possa esaurire in quelle giornate. E a questo riguardo vorrei fare una breve considerazione personale. Io non sono una storica, per cui, parlando di olocausto, posso intervenire solo in relazione alle mie esperienze, che vengono quasi unicamente attraverso la lettura dei libri. Ma vorrei raccontare, e prenderò solo pochi minuti, quello che ho provato in occasione della visita al Museo dell'Olocausto di Varsavia. La prima cosa che mi colpì fu un rumore sordo, continuo. Qualcuno mi disse di posare le mani su un totem nero che arriva al soffitto, posto al centro di una grande sala, e mi spiegò che all'interno c'è un meccanismo che riproduce il pulsare di un battito cardiaco, simbolo del cuore polacco, che non ha mai smesso di battere sotto il regime nazista, che stava mandando a morte nei campi di sterminio, milioni di polacchi, non solo ebrei, anche se questi pagarono sicuramente il prezzo più alto, visto che nel ghetto ebreo che venne realizzato proprio a Varsavia, vennero chiusi oltre 500 mila ebrei, ma anche esponenti politici, religiosi, omosessuali. Lì, mentre uscivo dal cortile, nel cortile, non riuscendo a sostenere la forte emozione, ho fatto una riflessione e mi sono postate le domande. Pensai che io non avevo vissuto quel dramma, nessuno della mia famiglia era stato deportato in uno dei tanti campi di sterminio che i nazisti avevano costruito. Tutto era finito. Il nazismo caduto, i morti commemorati, i popoli che avevano subito quelle atrocità avevano le loro città ricostruite e di nuovo la vita discorreva in maniera normale. Poi vennero le domande. Perché rivivere ancora e sempre tanta sofferenza? Perché sentivo dentro di me la responsabilità morale di quella immane tragedia? La responsabilità di fare in modo che tutto quello che stavo vedendo non solo non venisse dimenticato, ma che non diventasse qualcosa dal sapore di gita scolastica o di turismo, ma che conservasse quella capacità di raccontare, di mantenere vigili le coscienze? Quello che penso rende l'olocausto un paradigma non credo che sia il numero dei morti, tanti, troppi, ma non è solo quello. Quello che lo rende diverso è l'organizzazione dietro questo massacro. Nella strategia nazista non ci sono solo fosse comuni, luoghi dove le persone scompaiono, vengono torturate e uccise. Nel sistema nazista di eliminazione di una razza e di altre categorie di persone ritenute inferiori c'è un'organizzazione logistica, basti riflettere su tutta la smisurata rete ferroviaria costruita ed economica, che fa pensare ad una immensa fabbrica dove il prodotto uomo disumanizzato entra e compie il suo drammatico percorso, se ne sfruttano la forza lavoro e a livello economico tutte le parti, capelli, denti, ossa, oltre alla spoliazione dei beni personali, si sfrutta per compiere esperimenti scientifici e infine quello che ormai è solo un numero e non serve più a nulla lo si elimina. Non sono semplici torturatori e assassini e soprattutto, come dice Stefano Zampieri, quello che appare così profondamente disumano in realtà è stato compiuto da uomini mediamente istruiti, certamente interazionali e probabilmente amanti, come talvolta appare proprio dalle parole di alcuni testimoni, dei grandi valori occidentali in termini di musica, di letteratura e di arte. Ecco, questo olocausto è stato compiuto da uomini e donne verso uomini e donne e bambini e bambine, questo ci pone davanti il problema morale della conservazione del ricordo, del saper leggere in anticipo, quei segnali che per superficialità, vignaccheria, ignoranza, interesse personale, sete di potere o chissà cos'altro, non vennero letti allora. Per questo è importante il lavoro dello storico, che continua a esplorare, studiando il passato, come i segnali cambiano e si trasformano, si insinuano nella nostra società in modo suddolo, rendendone difficile il riconoscimento. Il lavoro dell'artista e dello scrittore, che scomparsi i testimoni oculari di quanto accaduto, hanno la responsabilità di costruire forme artistiche che non solo raccontino l'accaduto, ma che continuino a porre domande e soprattutto le famiglie e la scuola. Quindi noi oggi iniziamo questo percorso nella memoria con uno storico proprio, lo storico e giornalista Alberto Stramaccioni, che metto in diretta, eccolo con noi, che ringrazio per aver accertato questo invito. Lui, Alberto Stramaccioni, interverrà sul tema dei genocidi all'olocausto, la cancellazione della memoria e farò una breve nota di presentazione, ovviamente proprio brevissima, per cui tralasciando tantissime cose. È laureata in filosofia nel 1985 verso l'Università di Perugia, ha ottenuto borse di studio per materie storiche di età contemporanea dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano a Roma, dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici di numerose università, tra cui ricordo Oxford, Boston, Cambridge, Parigi. È professore associato e insegna storia contemporanea didattica della storia all'Università per Stranieri di Perugia e collabora con la Fondazione Ranieri di Sorbello e la Deputazione per la Storia Patria dell'Umbria. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo quelle relativi all'argomento che sarà trattato oggi, crimini di guerra, storia in memoria del caso italiano con la terza, la guerra in Italia in Umbria 1940-1945, le guerre degli italiani nel XX secolo, storia politica dell'occultamento dei crimini e l'Italia e i crimini di guerra 1940-1945, l'occultamento delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie in Icoslavia. A questo punto io lascio la parola al nostro conferenziere e ci rivediamo e ascolto anche io. Grazie, grazie. Innanzitutto grazie alla dottoressa Miccio che ha organizzato questo incontro e all'amministrazione comunale, al sindaco Chiodini, all'assessore Ruggeri, perché credo che il modo migliore per onorare la data del 27 gennaio del giorno della memoria sia quella di ricordare che cosa era successo prima di quel 27 gennaio del 1945 quando sono stati aperti i cancelli di Auschwitz, cioè del campo di concentramento nazista. Ora, tutti gli anni, da oramai circa 20 anni, viene celebrato il giorno della memoria. Anche questo è un dato che forse è bene ricordare. Viene celebrato perché è stato istituito con una legge del Parlamento italiano, la legge numero 211 del 2000 che ha appunto istituito il giorno della memoria, leggo il titolo, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Ci sono varie commemorazioni che sono state istituite dal Parlamento italiano, ma questa ha uno specifico riferimento appunto alle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. Ora, questa legge che istituisce questa giornata è una delle pochissime leggi composta da due soli articoli, brevissimi, che ci dicono però che cosa la Repubblica italiana vorrebbe ricordare, che cosa fare nell'anniversario appunto dell'apertura dei campi di sterminio. e leggo tre quattro righe sole, per non annoiare naturalmente, poi la legge potete eventualmente guardarla, però il primo articolo dice la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah. Le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e poi continua con le iniziative che si auspicano per ricordare appunto queste drammatiche vicende della storia contemporanea. Ora io credo che le celebrazioni sono tantissime, se ne stanno facendo, se ne sono fatte, ma la cosa più passano gli anni, la cosa più significativa credo che sia quella di riportare, ricostruire con dati storici ben precisi, come è avvenuta questa persecuzione e quali effetti drammatici purtroppo ha prodotto nel corso degli anni e soprattutto tra il 1939 e il 45. Perché dico di riferirsi ai fatti storici? Perché come sappiamo è da anni in piedi un movimento culturale, politico, ideologico che nega che siano avvenute queste vicende, cioè si è avvenuto la Shoah, l'olocausto, lo sterminio di milioni e milioni di ebrei. Questo movimento negazionista naturalmente non si chiama così, non è solo diciamo interessato a negare l'olocausto, ma è interessato come sappiamo a negare varie evidenze scientifiche, storiche o di carattere culturale e quindi credo che sia soprattutto per chi è più giovane, per chi non ricorda, per chi non ha visto le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio, ricostruire quelle che sono state le vicende di una vera e propria campagna di persecuzione degli ebrei. Ora che cosa ritiene questo movimento negazionista che sia in fondo secondo loro successo? Loro sostengono che non c'è stata mai volontà da parte dei nazisti di sterminare gli ebrei e quindi sarebbero stati solo rinchiusi nei campi di concentramento, cosa comunque grave ma non ci sarebbe stata la volontà dello sterminio, non sarebbero mai esistite le camere a gas e il numero degli ebrei morti durante la seconda guerra mondiale loro ritengono che sia molto inferiore a quanto invece in realtà è avvenuto e soprattutto dal punto di vista ideologico sostengono che la narrazione della Shoah sia un artificio per diciamo giustificare la politica che in altri campi invece di sterminio avrebbero fatto le forze angloamericane nel corso della seconda guerra mondiale e questi diciamo così argomenti vengono sostenuti da alcuni storici come david irving il più noto forse robert for his sonne in italia carlo mattogno che appunto sottovalutano marginalizzano o evitano di parlare di quelli che sono dei dati storici incontrovertibili incontrovertibili e quindi ritengono che questa strategia di distruzione di massa questo genocidio degli ebrei non sia sostanzialmente avvenuto e portano a loro diciamo a conferma di queste loro valutazioni aspetti vi potete informare naturalmente perché i siti che hanno diciamo questo tipo di argomentazioni sono tantissime portano degli argomenti veramente marginali che non scalfiscono la portata e la ricostruzione storiche la grande grandissima dopo dirò rapidamente documentazione storica a sostegno di questo sterminio peraltro peraltro propagandare tesi negazioniste rispetto alla shoah in molti stati europei e non solo europei è considerato un reato in austria in francia in germania lo stesso david irving questo studioso che sostiene queste teorie negazioniste è stato più volte arrestato incarcerato ma al di là di queste diciamo reazioni perché fino a prova contraria va garantita la libertà di espressione o di convinzione eh di tutti coloro che si interessano di questi argomenti però non va naturalmente eh sottovalutata la eh distorsione storica e la propaganda ideologica che è dietro questo movimento negazionista allora io credo che sia giusto soprattutto per i più giovani e per chi non conosce eh come sono andate realmente le cose che si faccia un po' diciamo di ricostruzione storica partendo da un dato e il dato inoppugnabile che si ha è che l'ideologia nazista e l'ideologia fascista italiana erano due ideologie profondamente raziste con caratteristiche diverse se si vuole dall'esperienza italiana a quella tedesca ma quella tedesca è diciamo inoppugnabilmente razzista a partire dalle dal libro famosissimo libro Mein Kampf di Hitler scritto durante il carcere dopo il golpe di Monaco e che ha stato un po' il punto di riferimento della azione di governo dei nazionalsocialisti in Germania dal 1933 quando sono andati al potere fino al 1945 ora questa ideologia razzista riteneva che la popolazione ebraica il popolo ebraico era responsabile di aver creato dell'esistenza ritenevano che ci fosse una lobby ebraica internazionale che controllava le grandi banche a livello planetario che in qualche modo sarebbe intervenuta nella gestione della crisi economica del 1929 e che era una specie di sovrastruttura a livello internazionale in grado di decidere i destini dell'uomo sulla terra e quindi era una popolazione attraverso anche valutazioni di carattere antisemitico con una elaborazione se volete anche culturali dietro che andava distrutta e la Germania e l'Europa dovevano essere purificati dalla presenza ebraica addirittura Hitler diceva che bisognava fare in Germania e in Europa come gli americani avevano fatto con gli indiani negli Stati Uniti d'America quindi un'opera di purificazione perché doveva emergere quella che veniva considerata la razza pura la razza ariana eccetera eccetera ora per quanto riguarda diciamo le contro deduzioni alle teorie negazioniste va detto che tra il 1939 e il 1945 vennero vennero giustiziati attraverso varie forme soprattutto campi di stermine camera gas circa sei milioni di ebrei naturalmente non erano tutti nella Germania in Germania vivevano circa mezzo milione di ebrei all'inizio del 39 ma gli altri erano concentrati in tutti i territori in particolare in Polonia ed è stato ricordato dalla dottoressa Miccio all'inizio dal ghetto di Varzavia in particolare ma dalla Polonia e diciamo sui territori che venivano mano a mano nel corso della guerra conquistati avveniva la famosa deportazione purtroppo nei campi di concentramento e di sterminio famosi i nomi come sapete di Auschwitz, Treblinka, Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen e vennero portati in questi campi di concentramento non centinaia di migliaia ma milioni di persone milioni di ebrei non solo ebrei anche come è stato detto zingari omosessuali comunisti ma in particolare ebrei perché dietro c'era appunto la realizzazione di questa teoria diciamo di purificazione razzista questa ideologia questa ideologia razzista ora si dice che appunto non sarebbero stati compiuti questi atti in maniera sistematica in qualche caso qualche negazionista sostiene ora oramai la ricerca storica è giunta a un punto tale che ha messo in evidenza come c'è stata nel gennaio del 1942 una vera e propria riunione dello stato maggiore del regime nazista una riunione del 42 a Wonsi in una zona vicino Berlino in una zona in una specie di villa appena fuori Berlino una riunione su mandato di Himmler e con Himmler presente quindi una specie di di seconda terzo livello della direzione su mandato di Hitler con Himmler che presiedeva e gestiva la riunione questa conferenza nel corso di questa conferenza si stabilì tecnicamente con una logistica abbastanza ben definita e precisa come la macchina di distruzione della popolazione ebraica doveva funzionare e in tempi molto rapidi e con un'efficienza straordinaria e qui ci si potrebbe diciamo dilungare sul momento in cui venivano deportati scendevano dal treno che entrava proprio dentro i campi di sterminio dove venivano denudati dove si diceva che dovevano fare la doccia e poi invece dalle docce usciva il gas e poi tutti i forni crematori per smaltire diciamo purtroppo i cadaveri non so qualcuno di voi forse ha visto i famosi filmati che hanno fatto gli americani una volta che sono arrivati nei campi di concentramento i filmati il generale soprattutto eisenhower il comandante delle forze alleate che ha portato ha portato i cittadini tedeschi che vivevano intorno ai campi di concentramento a vedere come effettivamente funzionavano questi forni crematori perché molti di loro dicevano naturalmente che non ne conoscevano l'esistenza non lo sapevano eccetera eccetera e ci sono questi purtroppo drammaticissimi filmati che danno l'idea proprio della metodologia della metodica dell'organizzazione della logistica con cui si attuava questa operazione di distruzione di un intero popolo ma in più c'è da aggiungere che ci fu negli anni sessanta anche il famoso processo Eichmann cioè uno dei organizzatori del di questa diciamo soluzione finale come veniva chiamata uno degli organizzatori appunto Eichmann che era un ufficiale nazista e che era detto proprio alla gestione dei meccanismi organizzativi che era fuggito all'estero poi era stato diciamo rintracciato come molti ex nazisti erano fuggiti in america latina poi era stato rintracciato dai servizi segreti israeliani portato a processo e nel corso del processo naturalmente vennero fuori soprattutto attraverso le testimonianze dei sopravvissuti che riconoscevano Eichmann eccetera le testimonianze sopravvissuti vennero fuori tutte diciamo le 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 testimonianze fondamentali su cui si reggeva l'organizzazione della macchina distruttiva fecero naturalmente un grande clamore ci fu questa famosa scrittrice di origine ebraica Anne Arendt che scrisse il famoso libro La banalità del male che fu anche abbastanza discusso ma quasi a sottolineare come per i nazisti in fondo la distruzione di un popolo era una cosa quasi dovuta e quasi normale quasi doverosa e non si rendevano effettivamente conto di quello che in realtà facevano ma le prove documentali ancora più approfondite e radicate diciamo nella discussione storica degli ultimi decenni sono naturalmente molto legate al processo di Norimberga voi sapete che appena finita la seconda guerra mondiale venne istituito questo tribunale a Norimberga città dove nel 1946 negli anni precedenti era stata diciamo approvato un manifesto di difesa della razza un manifesto diciamo era stata confermata l'ideologia razzista nazista e a Norimberga appunto in questo processo che durò settimane e settimane si raccolsero si raccolsero si raccolsero cito circa 3.000 tonnellate di materiali in cui c'erano le testimonianze le testimonianze dei della soluzione finale della Shoah dell'Olocausto le testimonianze cartace e video erano poi vennero pubblicati ben 62 volumi contenenti le prove raccolte dagli eserciti alleati dall'esercito sovietico dall'esercito americano. Ora con il passare degli anni tutta questa documentazione credo che diventi sempre più importante di fronte anche all'insidia della propaganda negazionista e naturalmente Simon Wiesenthal era un personaggio abbastanza noto denominato anche il cacciatore degli ebrei che aveva subito persecuzioni campi di concentramento eccetera raccolse lui stesso delle testimonianze ma soprattutto la testimonianza di un ufficiale delle SS che disse esplicitamente questa frase che vi leggo perché dà l'idea della difficoltà all'inizio di trovare le prove perché disse in qualunque modo questa guerra finisse disse l'ufficiale delle SS contro di voi l'abbiamo vinta noi contro di voi cioè ebrei o esponenti del popolo ebraico nessuno di voi rimarrà per portare la testimonianza ma se anche qualcuno scampasse il mondo non gli crederà perché ci saranno sospetti discussioni ricerchi di storici ma non ci saranno certezze perché noi abbiamo distrutto le prove prima che arrivaste voi quindi nonostante la tendenza a voler diciamo cancellare le prove sono state trovate è stata trovata una documentazione ingentissima e soprattutto credo che quello sia più importante nel corso degli anni come purtroppo è naturale e avviene molti dei protagonisti sono scomparsi ma tantissimi tantissimi hanno lasciato le loro testimonianze da ultima possiamo vedere in italia da noi la signora segre che anche dopo un lungo aver elaborato un lungo silenzio per decenni e decenni negli ultimi e negli anni più recenti della sua vita ha voluto testimoniare così come possiamo ricordare i tanti esponenti da 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 primo levi a diciamo altri protagonisti perché l'italia poi dobbiamo dire che anche in italia la persecuzione degli ebrei è avvenuta attraverso le leggi razziali del 38 messe in atto dal regime fascista con la famosissima e tristissima vicenda della persecuzione degli ebrei romani dove oltre mille vennero portati nei campi di concentramento in germania e pochissimi di loro sono rientrati vivi qualche decina con la persecuzione degli ebrei in italia che l'italia non è un paese che aveva tantissimi ebrei circa una 50 mila ma comunque quasi 10 mila di questi 50 mila sono morti per le persecuzioni razziali passando per i campi di smistamento di fossoli per la vicenda romana e naturalmente anche per le tante vicende italiane episodi e vicende italiane che noi abbiamo conosciuto nel corso degli anni e dove dove si è messa in evidenza anche la capacità di esponenti del mondo democratico della chiesa cattolica che si sono impegnati nel salvataggio degli ebrei dalla persecuzione nazista e fascista io non voglio dilungarmi molto e ritornare un po' la nostra realtà locale regionale umbra oserei dire perché anche noi in umbria abbiamo avuto tantissimi episodi in cui si è manifestata ed espressa la persecuzione nazista e fascista verso gli ebrei e si contano in umbria oltre 15 15 se non sbaglio persone che sono state diciamo iscritto nell'albo dei giusti italiani tra le nazioni giusti italiani tra le nazioni che hanno contribuito in modi diversi in modi diversi a salvare decine e decine eh di ebrei che si erano rifugiati magari nelle chiesi ad Assisi o erano nascosti nelle zone più disparate delle nostre campagne dell'Umbria e in particolare io vorrei ricordare la vicenda degli ebrei a Isola Polvese trattandosi diciamo di un territorio l'Isola Polvese eh l'Isola Maggiore scusate vicino al comune di Magione anche se eh in un altro comune Tuoro all'Isola Maggiore eh ci fu una vicenda che è passata alla storia proprio perché vennero salvati dalle persecuzioni naziste e fasciste eh ventidue ebrei che erano stati deportati nel castello Guglielmi dell'Isola Polvese e per iniziativa dei pescatori di Isola Polvese che a quel tempo eh diciamo nel giugno del quarantaquattro era più abitata di oggi naturalmente si assuncero la responsabilità rischiando di notte con le barche di trasportare eh gli ebrei dall'Isola Polvese alla terraferma diciamo e di portarli poi a Castiglion del Lago per evitare che l'avanzata dell'esercito nazista diciamo intervenisse sull'isola dopo una vicenda che c'era stata di un eccidio in quella piccola isola per salvarli dalla possibile persecuzione vennero appunto traghettati la notte in salvo portati a Castiglion del Lago e qui si mise in evidenza l'iniziativa di colui che è stato poi riconosciuto giusto tra le nazioni Don Ottavio Posta il parroco dell'Isola Maggiore che è sepolto nel cimitero in alto all'Isola Maggiore e che appunto nel 2011 con una cerimonia importante gli è stato dato questo importantissimo riconoscimento del giusto tra le nazioni e eh se andate all'Isola Polvese e all'Isola Maggiore scusate Maggiore vedrete che c'è una lapide a testimonianza di questa iniziativa e di salvataggio. L'ultima riferimento per dimostrare come la seconda guerra mondiale e il regime fascista e nazista sono stati eh diciamo così eh portatori di violenza distruzione, intolleranza beh c'è la vicenda di Montebuono d'Agello nel comune di Magione dove nel giugno del quarantaquattro mentre avanzava l'esercito angolo americano i nazisti che arretravano eh di fronte alle necessità del loro esercito naturalmente saccheggiarono le campagne di Montebuono eh portando via vacche, vitelli, maiali, grano e di fronte a questa razzia ci fu la reazione dei contadini di Montebuono di Agello e naturalmente i contadini non è che erano o fossero armati in modo particolare vennero truscidati truscidati e eh ne morirono circa una decina se non vado errato di fronte alla reazione diciamo dell'esercito tedesco che per rappresaglia per rappresaglia li uccise e ci sono state di questa vicenda le drammatiche testimonianze dei parenti dei parenti che venivano portati a riconoscere i cadaveri dei eh contadini uccisi e per non essere sottoposti ai rischi e alle reazioni per essere stati complici quindi dicevano di non conoscere addirittura eh quelle persone che erano state uccise. Come potete capire sono stati mesi ed anni molto molto difficili di cui la Shoah la soluzione finale la persecuzione degli ebrei è stato sicuramente un fatto clamoroso e drammatico che ha segnato la seconda guerra mondiale. Ma quello che credo sia importante e concludo sottolineare nel giorno della memoria è che fatti di questo genere e cioè con una alta componente razzista di intolleranza non è detto che non si ripetano e come noi vediamo senza tornare ai fatti di cronaca che possono interessare o che hanno interessato in questi giorni eh o gli Stati Uniti d'America o possono interessare le città italiane e non solo fatti di cronaca che mettono in evidenza come sia molto facile passare dalla intolleranza dalla diciamo così dalle manifestazioni anche più eh banali e semplici iniziali alla violenza vera e propria alla persecuzione razzista fatta oggi in altre forme io credo che questi pericoli siano molto presenti tra noi soprattutto e se non è molto vivo il ricordo di eventi che sono nati nella diciamo così con un atteggiamento di sottovalutazione di sottovalutazione da parte della gran massa della popolazione magari verso fenomeni individuali di persecuzione che poi sono diventati fenomeni di persecuzione di massa ebbene se non c'è attenzione e soprattutto non c'è il ricordo di quegli eventi che oramai può essere acquisito in modo molto netto e chiaro con lo studio storico la ricerca storica la documentazione storica se non è presente questa consapevolezza attraverso anche la conoscenza storica io credo che la storia come dice qualche storico può essere maestra di vita ma se non c'è la necessaria consapevolezza e approfondimento può purtroppo non insegnarci quello che realmente è successo e che noi dobbiamo assolutamente evitare di ripeterlo o di accettare che qualcun altro lo riproponga. Grazie. Bene io ringrazio veramente il professor Stramaccioni per essere stata con noi per averci introdotto perché era quello in fondo il che avevamo anche eh chiesto a questa serie di incontri che poi si susseguiranno. Io approfitto perché c'è Chiara Flamini che eh ci segnala un museo che vale la pena di visitare che è quello della memoria. Ehm io confesso di non conoscerlo e quindi quando sarà possibile uscire perché al momento siamo eh tutti in casa sicuramente sarà eh un'occasione e lo anche in questi giorni insomma lo lo ricorderemo. Eh io professore la saluto e la ringrazio insomma per il suo momento. E niente mh a questo punto vi ricordo che il prossimo appuntamento è domenica ventiquattro gennaio sempre alle diciassette e trenta e avremo nostro a parlarne il eh lo storico Dino Renato Nardelli che parlerà proprio dei giusti delle nazioni. Ehm ricordo anche che alla fine di ogni incontro eh ne pubblicheremo dei video che sono stati realizzati dal responsabile della biblioteca comunale di Magione Francesco Girolmoni e anche in quelli si verrà un po' ricostruite varie vicende storiche o letture legate alla comunque alla memoria. La conferenza di oggi può essere ascoltata anche sul canale YouTube Magione Stampa. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo domenica. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.